Posso fare una domanda? Ma perché se ne andate? Perché? Angelo, secondo te avrà avuto paura di me? Del cinghialetto? Se n'è andata perché ha capito che a me non mi interessava, ecco perché se n'è andata. Ma 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 che c'è? E' andata via perché lei ha detto che a mezzanotte sarebbe andata via. Ma certo, ha fatto, ha fatto la partita per mezzanotte per le 5 anni, sono donne dell'estero. Ah, le donne dell'estero? Ma io dico una cosa che ha avuto paura di... Certo, la carrozza si trasforma in zunghia, finisce l'incantesimo. Abbiamo passato la serata col cenerentolo e non ce ne eravamo accorti. E per forza, c'è stanno pure due nani doc, Pinolo e Cicciolo. Guarda che i nani stanno in pianteneve, non in cenerentolo, ignorante, quanto ne favo le si fanno! Grazie!